Sbarchi a Messina dove ritrovi un mister che conosci benissimo, Grassadoni, anche gli altri due nuovi acquisti, Franco e Caturano, il modo migliore probabilmente per integrarsi in questo gruppo? Sì, vengo qui a Messina, conosco il mister, vengono altri due miei compagni che ho avuto, Franco e Caturano, niente, io ce ne parlo almeno per me, vengo qua con grande voglia di fare bene, con grande voglia di dare il mio contributo e credo e spero che con l'aiuto sia mio che dei miei due compagni che arrivano e del mister che è qui già da un mesetto di contribuire a far risalire la classifica a Messina. Conosci anche Iuliano, Maiorano, Ignoffo, non è poi così complicato questo trattamento? No, conosco questi ragazzi che hai appena accennato tu, indubbiamente mi aiutano ad integrarmi al meglio nella squadra, però sono tutti bravi ragazzi, tutti mi hanno trattato benissimo, quindi sotto questo punto di vista mi sono trovato alla grande. È un campionato che hai già vinto, però è anche abbastanza diverso quest'anno, con otto promozioni e grandissima concorrenza, anche le squadre che sono in coda, non è solo il caso del Messina, ma ad esempio anche quello del Sorrento, si stanno rinforzando per tentare il tutto per tutto. Indubbiamente è un campionato diverso da quello che abbiamo già vinto, perché essendoci oltre retrocessioni e otto promozioni tutte le squadre lottano per restare nella Lega Pro unica, quindi indubbiamente è un campionato più impegnativo, però ripeto, siamo qui per fare bene e per dare un contributo importante per il Messina. Domenica la trasferta ad Ischia e si trovano di fronte le due principali delusioni di questo giro in andata, purtroppo va detto, sono le uniche due squadre tra le big che non hanno rispettato le premesse. Ho seguito un po' la C2 quando era a Pagani, quindi ho seguito anche un po' l'Ischia e il mino dell'Ischia, però ripeto, mancano 17 partite, quindi c'è tutto il tempo, ovviamente cominciando la domenica per risalire questa classifica e ripeto, andiamo ad Ischia per cercare di vincerla a tutti i costi. Ci presenti Franco e Caturano, sono ancora più giovani di te, cosa possono dare al Messina? Sì, Franco e Caturano, sono un ragazzo del 90 e del 92, però già hanno esperienza, diciamo, campionate alle spalle. Sono due giocatori che danno tutto per la squadra con la quale giocano, quindi posso assicurare che sono dei ragazzi che vengono qui per dare tutto per il Messina. Tu e Franco siete legati peraltro al Chievo, una bella soddisfazione? Sì, quest'anno è arrivata anche questa soddisfazione, quindi stare qui per me, oltre a fare bene per il Messina, spero di fare bene per arrivare il più alto possibile per la mia carriera, diciamo. Quanto è influito la presenza di Grassadonia sulla tua scelta? Indubbiamente non mi nascondo che è influita abbastanza, perché c'erano altre squadre dello stesso girone che comunque mi avevano cercato, però appena mi ha cercato il Messina e c'era il mister, non ho avuto dubbi, quindi subito ho firmato senza pensare ad altro. Subentrare in una squadra in difficoltà come il Messina è sicuramente una bella sfida, ma anche una responsabilità da non sottovalutare. Sì, indubbiamente la situazione non è delle più facili, però ripeto, ho trovato una squadra forte che secondo me non merita di questa classifica, quindi io insieme ai miei nuovi compagni daremo tutto per entrare nei primi otto. Grazie a tutti i nostri spettatori